Gli agenti del commissariato di Augusta sono intervenuti per una rapina consumata in uno supermercato di contrada balate ad Augusta e le poliziotte in servizio in sala operativa avendo ricevuto una sommaria descrizione del rapinatore ha diramato le informazioni, le pattuglie di zona e gli agenti nel frattempo hanno iniziato le indagini di polizia giudiziaria. E' stato accertato che un giovane armato di coltello e avvolto travisato dover minacciato il cassiere d'esercizio commerciale sia impossessato della somma di 700 euro in caso della serata dileguandosi a bordo di una bicicletta. Gli giovani delle volanti e il commissariato hanno intercettato poco dopo il giovane rapinatore Michel Carbonaro mentre si dirigeva in contrada a Scardina e dopo un breve inseguimento lo hanno bloccato e arrestato oltre che condotto in carcere. La somma è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Nel corso di un servizio di controllo del territorio i poliziotti al commissario di Pachino hanno notato nei pressi dell'ufficio postale di Via Pascoli due individui a bordo di una autovettura che alla vista della polizia malcelavano un certo nervosismo. I due sospetti entrambi note le forze polizia sono stati controllati. Uno dei due è stato trovato in possesso di un bastone della lunghezza di 90 centimetri ed è stato così denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.